ospedale di santorso il pronto soccorso torna nella rete del 118 sindaci soddisfatti dalle 8 di lunedì 11 maggio le ambulanze del 118 torneranno a fare riferimento all'ospedale di santorso per l'emergenza di chirurgia generale e traumatologia i numeri lo consentono e quindi l'ospedale alto vicentino rientra dunque nella rete di emergenza 118 seppure con gradualità e dunque per il momento limitatamente a queste due tipologie di emergenza medica ma questa sera sono infatti solo 52 ricoverati nei reparti covid due dei quali in terapia intensiva e quattro in semi intensiva e la situazione è vistosamente migliorata anche negli ospedali vicentini anche se va detto che l'URSS 8 Berica non ha mai voluto o avuto bisogno di mandare pazienti a santorso ora quindi i tempi sono maturi per il rientro nella rete su eme fermo restando che il pronto soccorso di santorso non è mai stato chiuso commenta il commissario dell'URSS 7 Pedemontana Bortolo Simoni si tratta di un segnale importante nell'ambito del percorso di graduale ritorno alla normalità all'ospedale dell'alto vicentino la chirurgia generale e l'ortopedia avevano ripreso l'attività ordinaria già nei giorni scorsi seppure con gradualità il reinserimento nella rete di emergenza 118 per la gestione anche delle urgenze in questa specialità rappresenta dunque un ulteriore passo verso il ritorno alla normalità la notizia incontra la soddisfazione dei sindaci del territorio l'esecutivo del comitato dei sindaci dell'alto vicentino nelle ultime settimane ha lavorato sodo sulle diverse questioni legate all'ambito socio sanitario del territorio sulle necessità a breve o medio termine lo scorso 28 aprile si era tenuta una riunione alla presenza anche del commissario Simoni nel corso della quale i sindaci dell'esecutivo Balzi Casarotto Orsi, Lain, Sperotto, Maculan e Masero avevano preso atto dell'avvio del processo di reattivazione delle attività ordinarie del nosocomio in quella stessa riunione si era preso atto dell'atto aziendale la cui delibera era stata trasmessa ai sindaci solo 24 ore prima è un importante passo nella giusta direzione commenta il presidente Franco Balzi a cui si aggiunge la conferma programmata a giugno di concorsi per alcune fondamentali apicalità del nostro ospedale ci auguriamo pertanto seguirne altri non meno importanti nei prossimi giorni i sindaci del territorio conclude Franco Balzi continuano a lavorare con tenacia su questo obiettivo cercando di portare il proprio contributo in modo trasparente mettendo in evidenza le oggettive criticità ma cercando anche di individuare in modo costruttivo le soluzioni che possono contribuire a risolverle grazie a tutti